Un concorso di idee aperto a professionisti, esperti e appassionati di architettura under 40 per progettare la riqualificazione architettonica e ambientale di Piazza Matteotti a Foligno è la sfida lanciata fin da ottobre dalla Fondazione Cassa Risparmio di Foligno che ha voluto stimolare le migliori giovani intelligenza a livello nazionale e che ha visto la sua conclusione nella cerimonia di premiazione svoltasi alla Sala Assemblea di Palazzo Cattani, sede dell'istituzione bancaria. Attraverso questa ulteriore iniziativa la Fondazione Folignate ha voluto fornire un contributo prezioso per chi in futuro potrà avvalersi di una progettualità importante e qualificata. È stato un grandissimo successo perché abbiamo ricevuto 53 progetti da tutte le parti d'Italia, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Lazio. È stata una cosa molto interessante vedere con quale serietà, con quale accuratezza questi ragazzi, dico ragazzi perché noi abbiamo posto l'asticella ai 40 anni, sopra i quarantenni non potevano partecipare a questo progetto e hanno dimostrato una conoscenza del nostro territorio veramente interessante. Ad aggiudicarsi il primo premio del concorso di idee è stata l'architetto Elena Antoniolli, Trevigiana, che ha così voluto descrivere i genesi e obiettivi del suo progetto. Il progetto che ho immaginato per la nuova piazza di Foligno parte dal principio della sottrazione, cioè lavorando sull'azione di demolire il solaio dell'ex rifugio per andare a aprire nuovi vuoti abitabili che potessero funzionare come delle vere e proprie attrezzature pubbliche e quindi partendo dall'eredità culturale del gioco, dell'identità dei rioni di cui Foligno è molto famosa, attraverso un processo inventivo il progetto si ispira proprio a questa eredità culturale per andare a riscrivere il paesaggio urbano immaginando la piazza come un luogo vitale, un luogo di interazione, un luogo di attività ludica appunto. E quindi questi nuovi vuoti e l'articolazione tra pieni e vuoti va a definire un'esperienza pubblica condivisa tra architettura e spazi aperti. Quindi poi nuovi elementi vegetali contribuiscono al benessere psicologico della piazza e vanno a definire, a contribuire un ambito non solo dove è bello sedersi e trovare un posto all'ombra degli alberi ma anche dove appunto trovare un posto dove giocare. Ci sono un'area per arrampicata per bambini, un campo da street basket e un'area con degli scivoli ma poi ci sono anche uno spazio per piccole aree espositive, degli spogliatoi che potrebbero servire appunto per le attività sportive e quindi le gradonate che vengono ricavate riutilizzando il cemento demolito dal rifugio vengono riutilizzate per creare delle gradonate e raccordare i piani sfalsati della quota alta e della quota bassa. Concludo ringraziando il comune e la fondazione Carifol per aver utilizzato lo strumento del concorso perché lo trovo fondamentale anche per far emergere nuovi architetti e le nuove generazioni. L'architetto Antonioli è stata premiata nel corso della cerimonia a Palazzo Cattani, sul podio anche Matteo Incognito e Valerio Tolve rispettivamente secondo e terzo, mentre menzione speciale è stata riservata ai lavori di Nico Pasquini per la chiarezza dell'impianto generale e delle soluzioni di raccordo con le quote della città esistente e a Chiara Marchionni per la vivacità dell'intenzione compositiva. Soddisfatto il presidente della fondazione Cassa Risparmio di Foligno soprattutto per la finalità primaria del concorso, un contributo alla città. Uno degli obiettivi della fondazione è quello di rivolgere uno sguardo al tento, al proprio territorio e soprattutto al centro storico. È una zona della città che ha bisogno di essere restaurata e quindi il lavoro della fondazione è stato messo in piedi soprattutto per stimolare l'amministrazione pubblica a riflettere su quel luogo e a mettergli a disposizione una serie non tanto di soluzioni ma di idee. Ci auguriamo che la prossima governance, perché a Foligno fra un po' ci saranno le nuove elezioni, utilizzi al meglio questo materiale e soprattutto nasca in loro la convenzione che una ristrutturazione di quella piazza è necessaria e si può fare. La fondazione come solito sarà a fianco di tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa opera, in questo lavoro.